Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Potature in corso lungo la sede tramviaria di via Prenestina all'altezza di via Erasmo Gattamelata. Fino alle 12 circa le linee tram 5 e 14 viaggeranno su bus. Nelle tratte Piazza dei Gerani Porta Maggiore tra Viale Palmiro Togliatti e Porta Maggiore. Normale servizio tramviario invece tra Porta Maggiore e la stazione Termini. Per quel che riguarda la linea tram 19 viaggerà su bus nella tratta Porta Maggiore e Piazza dei Gerani. Normale servizio tramviario invece tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento. Deviate infine le linee 81 e 412 dirette a Piazza Risorgimento e Via Adria. I bus percorrono via Prenestina, Piazzale Prenestino e via L'Aquila. Aggiornamenti in tempo reale su romamobilità.it